Partendo da una base molto di serie, una macchina un po' di tutti i giorni, abbiamo deciso di provare a costruire una vettura racing. Abbiamo realizzato un progetto per poter costruire un rollbar adatto alla vettura che non esiste, quindi è stato costruito dal nulla e poi seguendo i dettami del regolamento Super Production abbiamo allargato la vettura, l'abbiamo abbassata, abbiamo cercato di abbassare un po' il baricentro della macchina. Abbiamo usato quasi tutto materiale di provenienza gruppo PSA, avremo motore che è praticamente un motore RCZ, quindi Peugeot derivato e abbiamo sfruttato invece per la meccanica molte delle parti della PS3-R3. Una cosa che secondo me è molto carina è proprio questo fatto che non partiamo da una macchina che è racing, ma partiamo proprio da una macchina che è la macchina di tutti i giorni. Quello secondo me è un po' la chiave anche vincente del progetto. Il concetto è che la macchina sia bella, sia affidabile e però il progetto finale è quello di cercare di incrementare anche le prestazioni. Cioè alla fine sì, deve essere carina, ok, però deve anche andare forte. Cioè alla fine sì, deve essere carina, ok, però va bene. Abbiamo utilizzato il meglio di quello che frega il mercato, la Procar, già esperienza sulla marchio Citroen, anche se questa è la C3, è totalmente nuova, la MC Mototecnia si è occupata da parte motoristica e poi abbiamo un ultimo nato in supporto di Magnetti Marelli che dal punto di vista elettronico ci ha risolto molti problemi. Mi sfido chiunque a guardare una normale Citroen C3 per strada e poi a paragonarla a questa. È questa vettura totalmente modificata, è stato uno splendido lavoro della Procar, veramente modificarlo. Ci ha aiutato molto dal punto di vista aerodinamico e grafico e devo ringraziare di persona Marco Carbon che è stato un po' il disegnatore insieme a me e quello che ha fatto il rendering grafico, però poi tutto il resto sono stati presi i pezzi migliori del gruppo PSA. Abbiamo il meglio, non possiamo sbagliare, dobbiamo solamente fare ancora meglio. Crediamo di poter fare delle cose un po' diverse dalla normalità, infatti uno slogan della Citroen che è sulla macchina è Be Different e sicuramente non lo siamo stati in questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.